I presidenti delle regioni Basilicata e Puglia, Marcello Pittelle e Michele Emiliano, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti, hanno firmato a Roma un accordo valido fino al 2030 per la gestione dell'acqua, che prevede tra l'altro una più puntuale definizione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, il completamento degli schemi idrici tra i due territori e delle opere incompiute. Il primo accordo tra le due regioni e il Ministero è del 1999 ed è scaduto a dicembre dello scorso anno e regolamentava i processi di pianificazione e gestione delle risorse idriche condivise e ha consentito fino ad oggi un utile, efficace e condivisa gestione delle risorse idriche, consentendo ai due territori di superare eventi di crisi ed emergenza idrica. L'accordo ha detto il presidente della regione Basilicata Marcello Pittella è un risultato storico e rappresenta un esempio virtuoso di solidarietà territoriale.